Bletchley Park, conosciuto anche come Stazione X, è un luogo che ha avuto un ruolo molto importante nell'ambito della storia del Novecento. Situato a 75 chilometri da Londra, è qui che, anche grazie ad Alan Turing, durante la Seconda Guerra Mondiale fu possibile decifrare i messaggi criptati dei paesi dell'asse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.